non so l'età di di gentiluolo in effetti però eccoci qua mi spezzi ok tutto questo franco ho un problema col mouse per cui quando switcho dalla chat di twitch allo streaming su discord ci metto 6 ore vabbè in questo seno quindi caso vorrei leggerla di più effettivamente va bene nel frattempo franco stavano le le sue cose o questo dopo l'eggardo strano ha provato un impasse mi sembra che orti per quel che conosco io e tali si hanno abbastanza di hard nel senso fatto di web smash così l'ultimo stage ok donire back here no stage e ora diciamo prima etalus con una stock in più è difficile è una situazione relativamente brutta perché la fine del gioco se non sbaglio però comunque alle sue cose tipo si è ancora in giro si zappa il ghiaccio ok che l'armo era andata è vero per uccidere zetterber non ha particolari problemi però se non ha comunque è sempre etalus ok non so se non so se non so se potessi fare una diario un po' migliore lì su quel veramente poteva ma tipo un giro di strano intanto riversano a caso tipo ho preso un sacco di stock contro i 22 nel ditto prima facevo da un b andava nella direzione opposta e moriva per la diai sbagliata eeeh questo doppio dollare missato si quasi rubato rubato no sa comunque la tutta realtà però bello lo vede il brutti io ne so fosse morte invece no ok bella tech cioè non particolarmente difficile però vabbè però intanto tentato l'ha fatta però è sempre sì esatto e di questi diavisti che non lo so se fosse motivato da sopra non ne ho idea però comunque ora c'è ora c'è orticontori una non stock in più e l'armo questo è brutto si deve trovare assolutamente la kill però ah ma pure col perito e l'armo è vero me l'hai dimenticato quindi comunque non è infattibile però è brutto perché perché si è se non c'è tanto per cento si è appunto mi è andato migliore o perriere oppure tipo mandarlo off stage perché da lì comunque deve buttarlo con la via intanto però orticontori con il momentum ho parlato ok no non è vero non so di averlo bussato no no non l'hai bussato troppo non l'ha preso troppo la piattaforma che continua tipo a rovinare eeeh vabbè vabbè c'è l'uomo tu dentro quando ho visto che iniziava a caricare l'app smash ho detto scusami la legge si è letta la libreria e vabbè questo banno immediato è abbannatoranno cosa ha fatto è abbannatoranno non ho capito wow power move ma che ho davvero per bannatoranno wow power move parte 2 no però no quella lì più oltre è difficile perché se fai se fai di intima di l'investi fai di out è off stage quindi tipo eh sì eh sì ovviamente c'è qualche modo per evitarla che non conosco però dico è tipo ehm è un po' 50-50 devi capire se vuoi prenderti di 90.000% oppure finire off stage e prendi comunque un 90.000% eh se probabilmente ti sono fatto che non ha capolato enorme qualcuno mi dice no non è vero comunque è brutta situazione eh sì eh sì ora rimane off stage da un po non riesce a ritrovare sì che lo tieni così così tutto di sopra col momentum tutta la sua parte però ho parlato non devo non devo parlare no ma in realtà nessuno stasino particolarmente da amico però sì no no proprio prende tipo di una cosa dopo è esatto di voi iniziate lo secondo parte non lo si ferma davvero si ma già parte dei pg sono così alla fine perché come c'è il momento difficile però è talus a la cosa che sono pesante a morire tardi trattate la volta lo smetteremo ma vedi capito il concetto per dire il concetto che si tristocca una brutta nel terri di nuovo di prima a che si esce sarebbe solo il problema che ha più da speed ronato il padre qui è un 2 a 0 no per giudizio a 0 ma di nuovo ballato random quindi non è random velocissimo per merita sì vabbè ok da con la vostra memory quanto pensavo che il custode fosse troppo lento per arrivare così facilmente inserito lo dicevo che era random proprio a quanto pare no intanto si è esatto la stage per etalus da questo non conti in questo che ciò non ne vediamo non vuoi dire nulla però non mi sembra come uno se uno sei brutto l'ha detto onestamente quello diciamo che sono proprio dei seggi brutti non anche se non ci vuoi fd per crack unica cosa che mi viene in mente che il resto sono abbastanza no si sono molto non c'è nessun tipo marta fd di mili e adesso mi sa che non adesso finisce ff smash e non si torna più mi sapevo in generale di poveri ma il figlio di danni se li hai presi orti però non riesce non riesce mai a chiudere non so come diciamo che l'articoltore che lo mando se non lo fa più tornare in più ha molto se il controllo quindi finisce che non non lo fa respirare praticamente ammissato il pane c'è comunque dicevano non lo fa proprio respirare praticamente da nere arlamo cosa si può dire fisicamente una prova beh comunque no si diceva che è andato dentro cercando di andare al gioco da fare la via in ma vabbè fa tempo ha ripreso un po di momentum 22 franco anzi che ricordiamo è una persona se tu lo guardi letteralmente un essere umano successo vabbè comunque è soft stage mi sa che questo è un po spinoso non è vero che ho parlato che non mi aspettavo nel senso che poi l'ha parriato sì no no perché ha fatto a predo il jeb se per il jeb ma no no sì non avevo visto che fosse jeb perché non conosco le mosse ma sono adesso nemmeno io perché ho visto che non non sono abituato ai jeb check perché non faccio mai job e non me lo fanno mai quindi che sono da pensare che è successo e poi mi ricordo edo nero ok sì in effetti non mi sembra che abbia un buon cioè sia molto buono stage è molto buono a guardare ma perché alla fine è ricoprire relativamente lento sta fermo lì finché non lo rilascia e se deve arrivare in alto non fa fare altro se non a sfruttare quindi va lì fanno spike effettivamente non è anche una crisi di destra per proprio il pg essere così sì buono non pensavo volesse più no te ne parlavo un po così con tutti però nel frattempo è even sì anche se circa non è più e vabbè niente bravo